C'è un zaino in che senso? Che zaino ha? Spacca la pulchia... C'è un cazzo... Eh, non l'ha proprio c'è... Quindi, maggiori informazioni sul diario, mappa... Ho capito... Ma ce l'hanno libera di mini mini... Porco c'ho da quattro chilometri e mezzo... Ma te sei matto? Ma chi si è proprio uno besta matto? Besta max... Uno besta max... Lì che cazzo c'è? C'è una parola là sopra... E c'è un forte qua... Eh, ma te ha C2... Qui c'è un forte, avamposto sotto sotto... E qui c'è qualcosa altro comune... Vabbè, andiamo qui... Questa cosa come funziona? Allora qui non è che mi interessa tantissimo... Eh, vedi perché... Intanto devo passarci in mezzo al senso... C'è un totem? Si c'è un totem qua... Che cazzo è? Bulbo stanco scorreggione... Maghe... Eh, vabbè, questo perfazzo lo battono... Allora... Mamma mamma mamma... Mamma mamma... ... C'è un matto... Devo fargli lontano... Mamma... Mamma... Che ha tirato fuori da questo? C'è una chiave ne? Ancora sta pupù. Ciavo della fumofonderia. Fumofonderia! E dov'è la fumofonderia? Ah, ecco. Mamma mia, giuro. Oh, cazzo. C'era con me, eh? C'era con quello. C'era un'altra. C'era un'altra. C'era un'altra. Mi sono ancora. andiamo qui infila e gira c'è un'altra arma ok faccio questo al ciccio del mondo che fu che cos'è? ok contagio flups ma poro vabbè raccoglie che cazzo c'è la sua un combo tre cinque razioni e raziomonte di solito andiamo come fanno passare ah lì c'è la mia creatura ok qua c'è questo eh ma senti adegisci no sei incastrato e non mi fa affancazzo vabbè per accendere il razio monitor devi prima collegare gli alimentacavi otti otti era l'ultimo che che qui c'era qualcos'altro l'altro cos'è questo? l'attico e rimane la luce e che e che cazzo? oh ma quando cazzo io lo apro non mi fa non mi fa non mi fa non mi fa che ti ha un viaggio rapido c'è un viaggio rapido c'è un cazzo ma non lo fermo un attimo perchè non so dove che stumbo qui c'è un forte mi dice forse 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 è un forte c'era un coso dei banditi c'era un coso dei banditi quella è la casa di Vungo eh scopigi Vungo un uovo di feccia e malvagità c'è oh adesso devo combattere contro Vungo 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 eccolo sono tutti topici Vungo Vungo è scopo sconfitto Vungo ha perso ok qui 2,6 non faccio la pompa vediamo cosa trovi di interesse posso saltare? un punto abilità ti da eh non lo sapete ho appunto abilità ok ho sbloccato questo una tizia da salvare che io devo andare tranquillo eiii 19 su 23 ma poi mi mancano 4 praticamente qui questo posto non devi riposare ho detto prendi questo ok ok sopra qui sopra qui ok ok aria completata 203 metri ah sì è una luce c'è un santuario c'è un santuario là in fondo qui siamo a 20 ehi 30 santuari di questo lo devo fare mamma mia mamma mia cos'è che è? è una luce di solito eiii vengono basso di me io sto già contro questi no ristruttura niente male quella laggiù chissà se qualcuno la chiama ancora casa non c'è la struttura niente male faccio la struttura niente male ma che avrò io ok è tutta distrutta ah La struttura è ok tu te 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 che cos'è? ok apposto vado no c'è un mascare appendassù Aspetta c'è questo. Ah, le manaluce sono quelli lì. Quindi li ha finiti anche questi. Ti servono gli otti comandi per avviarlo. Uno, ok. Due, tre. Finito. Ho salutato anche questo. Gli ho trovati tutti. Saluto, ma che saluto. Un attimo, una cosa. E' certo. Ehi, ma c'è la miseria, l'ho fatto così. Ah, ma è un po'. Un po'. E scendi! Non scendeva. Cosa fa? Ah, gli dà, gli andò fa così, però... Cosa fa sotto? Ok. Eh, non ci posso andare, perché ho bisogno di quello lì. Ah, non li ho mischi a risolti tutti, vedo, no. Non li ho mischi a risolti tutti, grazie a un momento. Appunto, perché sì? E invece no. Eh, dove è il prossimo? E... E... Tu mi lascia fa una seconda, perché c'è sto cazzo di conso? Eh, che cazzo? Ehm... Ehm... Batti, guarda. Andiamo di qua. Cos'è questo? Infatti, avamposto sottopiede. E' questo qua, dovevo farlo, ma... Non c'è mai il mostro. Forse è stato il mostro, perché dove c'è il cavo, c'è un mostro. Ma questo non te lo dà. O è paccato? Molto probabile, ormai. A me il suo gioco è... BioBug. È diventato... E qua. Eh, non funziona! Ehm... Non funziona più il pregaduto. Molto... Non te lo attiva più. Non te lo attiva più. Ehm... Il... Il deltaplano, lì, il... Ehm... Non te lo attiva più un cazzo, proprio non salve. Se il cuore, e se... La fermo, è un coglione. Sbaglio, sta la... Insomma... A scattare un po' il gioco, cioè... Non capisco stavolta. Sì, niente, non fai andare a me. Cioè, che cazzo. Se avessi tempo, il mondo non stesse cadendo a pezzi, potresti considerare l'idea di accasati... Ah, pianofonso. Musica per le orecchie. Ah, questo è un baticolato. Vabbè. Lo vedo tutti. Ehm... Il prossimo baticolato mi dice a duemila. Ma come è che si sconfiggono questi qui, invece? Non... Non capisco. Ma io cazzo, la taruga. Boh. Posso riprovare a fare questo, ma... Non prometto nulla, che se sbagliate mi esce il mostro. Però che direi che... Posso provare, ma lo vedo. Ma non penso. Lo sconfiggio del lupa lupin. Ma non mi ricordo dove cazzo è. Dove andare lì? Di là. Chi cazzo è? È il culo, è il no. Il livello 14? Com'inchiare era chiesto? Cioè... Ehm... Il livello 14 contro il livello... 34 passa, cioè. E vada, non ti fa più le cose! Non ti fa più le cose! Se è bugato tutto il gioco, se è bugato. Non ti fa più le cose. Manca solo sti due. Ma non si è capito perché non... Non funziona sto coso. Qui dovrebbe spawnare il mostro. Ma non esce. Qui dovrebbe essere. Ma non spawna. Questa qui su sta lastra. Ma lui non spawna. O si è bugliato, molto probabile che si è bugliato il gioco. O non lo so. E vedi, tu mi fai una musica di come quando ci sono i nemici, ma... Non... Non funziona. Beh... Non ho capito. Si riesco a guardare la lupa lupin. Dove cazzo è? Qua. Ci configgi il lupa lupin. Come me ne ho ammattato lui a me. Ehi! Beh, sì, ma c'è. Mi chiamavo questo... Questo variante funziona molto bene. Eh, sì, dopo mezz'ora me l'ha attivato, però... Alla fine l'ha attivato. No, qua posso rimanere, eh? No. Ma il... Devo capire dove si prende quel cazzo di... Di cavalchiatura per sbloccare le parti che mi servono, nemmeno per i trofei. Che cazzo? Stai esplorando il bioma, ma stai ci sua. Soccoruto di sotto, soccoruto. Che cazzo, eh? Aiuto! Non corre! Non correva! Oh, cazzo. Ma in... È tutto bagnato il pelo. Ma scusa, quindi si è sconfì con lupa lupin e finisco il gioco? Ma è già un mila capito. Ma dai, ha fatto il salto a più lungo di tutto. Che cazzo è successo? L'accampamento di lupa lupin è sempre stato lì, nascosto in piena vista alle pendici dell'albero. Ma non?